Tutto è desolazione tra la bruma, che sfuma il pellegrino nel paesaggio dell'essere e il non essere, però ha già udito l'origine nel tuo centro e ha citato il tuo nome, Pietrarotte. L'autore, Cadice 1952, poeta, scrittore e musicografo, ha svolto un'ampia opera di divulgazione musicale e letteraria attraverso la radiofonia spagnola, le università e diversi media specializzati. Dalla sua fondazione nel 1991 è direttore di Revista Atlantica de Poesie, una pubblicazione dedicata alla promozione della poesia iberoamericana e internazionale. È autore di diversi libri di poesie, ma soprattutto diverse antologie sulla sua poesia sono state pubblicate in Colombia, Messico e Spagna, quest'ultima con il titolo La Sombra de Nombrar, Renassimiento de Sviglia. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli, saggio e monografie letterarie e musicali, molti dei quali dedicati allo studio del rapporto tra musica e poesia.